L'arte e la moda Presentata la seconda edizione di A Work of Persol, otto giovani talenti d'arte contemporanea diventeranno con le loro creazioni i protagonisti della campagna pubblicitaria di Persol. Fra gli artisti selezionati c'è anche l'italiano Francesco Cuomo. Presentato all'Art Gallery dell'Università Bocconi, l'evento lanciato dall'Uxottica aveva un'unica ispirazione, Persol e la sua storia. Perdere la testa, il cappello tra arte, moda e follia, è la mostra che la Fondazione Borsalino presenta insieme alla nuova collezione del brand, simbolo ormai per i cappelli. Il marchio alessandrino, famoso per la storia, la ricercatezza delle forme e dei materiali, si è tinto di follia e ironia per la settimana della moda. Borbonese medita sull'arte e dedica a Roy Lichtenstein 12 modelli di borse limited edition. Presentata alla triennale di Milano, sede attuale della mostra del famoso artista, le Art Bag sono un tributo all'arte. Due shopper e una pochette ripropongono i dettagli delle più importanti opere di Lichtenstein. Sunrise, Yellow Brush Through, A Girl With Tear. Sunrise, Yellow Brush Through, A Girl With Tear. Sunrise, A Girl With Tear. Grazie a tutti